Dottore, come dottore sei bravissimo? Daci oggi, il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri limiti, come anche noi li veniamo ai nostri limitatori, e non abbandonarci alla pensione, ma l'intera ciò che amare. Saldi il freddo della notte, dilegui il buio delle tenebre, e faccia risplendere la fede di Cristo Signore, che il Santo Martire Sebastiano ha esaltato con il suo Santo. Te lo chiediamo per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Ora che ciao, una mano passata. Ma no, no. Qua ragazza? E si può essere? Ma ma non è un... Il mio tipo di ferenziale, del menyato è un palazzo. Perché ho una mano passata nel cielo. ?" Sì, sì, sì. 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 Sì.